Europa, a Palazzo del Pegaso, la stakeholder consultation sul report delle politiche di concorrenza dell'Unione. Eventi arriva a Pietrasanta a Libropolis, il festival di editoria e giornalismo dal titolo Infedelle alla linea. Tenere insieme gli aiuti di Stato e le politiche di coesione europee è questo uno dei punti centrali di riflessione del report annuale delle politiche di concorrenza europee di cui il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è stato indicato come relatore quale membro del Comitato europeo delle regioni. Il proprio report è stato l'oggetto della stakeholder consultation che si è tenuta a Palazzo del Pegaso allo scopo di raccogliere dalle rappresentanze del mondo sociale, economico e produttivo toscano pareri, suggerimenti e reazioni in vista dell'adozione del documento prevista dalla riunione della Commissione Econ del 18 ottobre prossimo e nella sessione plenare del 29-30 novembre. Ho sempre detto che volevo essere la voce della Toscana nel Comitato delle regioni, in Europa e per questo ho voluto confrontarmi con gli stakeholder del territorio, con chi ogni giorno questi temi li vive, con le imprese, con i sindacati. A loro va il grazie. Grazie per i suggerimenti e gli spunti che mi stanno e ci stanno dando. La stessa iniziativa l'avevo fatta a livello europeo. A me piace costruire pareri, risoluzioni che partano dalle istanze, delle imprese e dei cittadini. Il tema della concorrenza è un tema difficile, che sembra lontano dalle vite delle persone. Invece voglio dire alle cittadine e ai cittadini toscani che è un tema della nostra vita, perché se uno Stato europeo ha più margini, più possibilità di concedere aiuti di Stato, vuol dire che un'impresa che compete con una nostra impresa sul territorio può essere favorita. Se viene favorita vuol dire che un'impresa del nostro territorio rischia di poter perdere lavoro, occupazione. Invece, in questo parere, io chiedo che gli aiuti di Stato non vadano a discapito della coesione territoriale. È necessario che ci teniamo insieme, che ci sia supporto, ci sia generosità da parte di tutti. Ed è quello che ho chiesto anche ai componenti dei Paesi che hanno più forza in questo momento. Ad oggi questo dialogo è un dialogo aperto. Mi piacerebbe che il 17, il 18, quando andiamo a provare questo parere, venga votato da tutti, senza distinzione di colore politico, senza distinzione di territori. Perché guardate che anche all'interno dei territori che hanno più capacità fiscale, più forza, penso alla Germania, ci sono anche territori che soffrono e quindi è interesse anche loro che le disuguaglianze si riducano invece di ampliarsi. E questo ascolto di oggi per me è stato molto importante. Davvero una grande partecipazione al tessuto economico, sociale e produttivo che mi dice che il metodo, la strada è quella giusta. Il ruolo delle regioni è importantissimo per definire quelle che sono le politiche europee. Lo vediamo quotidianamente. Quindi mattinate come questa, con l'ascolto delle associazioni di categoria, ci consente di utilizzare al meglio e di declinare al meglio gli strumenti di cui disponiamo, in particolare fondi di coesione, sui nostri territori. Io ho parlato anche del ruolo locale, quindi solo le regioni ma anche i comuni, perché sono quelli che materialmente possono lavorare insieme all'associazione di categoria e mettere in piedi le politiche migliori, i bandi migliori, per dare una mano alle aziende che possono essere più concorrenziali. È un tema che sembra lontano quello dell'Europa, ma che tocca la vita di tutti i cittadini e di tutte le imprese della nostra regione, che sono particolari perché sono piccole e medie imprese, a volte micro imprese, che hanno bisogno di essere strutturate. I fondi dell'Europa in questa regione, anche storicamente, sono stati determinanti per far crescere molte delle aziende, le start-up, ma non solo, e anche per eliminare o correggere alcune politiche che potevano essere a vantaggio solo dei più grandi e meno dei più piccoli. Quindi noi, con queste mattinate e con questo ascolto, proviamo a portare in Europa sul tavolo, sia del Parlamento che della Commissione, delle politiche che siano a misura di regione, a misura di Toscana, ma anche a misura di cittadino, per consentire lo sviluppo del nostro territorio. È stato sicuramente un momento di confronto molto importante, arricchente, ci sono stati messi a disposizione molti spunti, quindi bene ha fatto il Presidente Mazzeo, che ha questa importante responsabilità a convocare anche gli stakeholders della Toscana per raccogliere le loro riflessioni e soprattutto per mettere in fila una serie di riflessioni. Sicuramente il tema della concorrenza è un tema che attraversa tantissimi ambiti della nostra vita economica e anche produttiva e sicuramente insomma quelle cose che sono emerse nel corso del dibattito saranno utili al Presidente Mazzeo, ma anche alle attività che cercheremo di portare avanti ancora di più, con ancora maggiore determinazione, sia all'interno della Commissione Europa e come sicuramente avrà detto la Presidente Bugetti anche insieme della seconda Commissione. Sono momenti di confronto e d'ascolto assolutamente fondamentali, è un tratto caratterizzante anche di questa legislatura e su questo noi continueremo a lavorare e a impegnarci. Abbiamo illustrato il progetto di parere che abbiamo portato in Consiglio nel Comitato Europeo, il parere si compone di più parti, nelle parti della concorrenza illustriamo alcuni strumenti che sono stati illustrati dalla Commissione durante questi ultimi mesi come il Digital Market Act che va a regolare i gatekeeper digitali affinché si crei un mercato digitale equo e competitivo, il regolamento sui sussidi esteri che è importante perché individua quelle imprese che ricevono aiuti da parte di stati esteri andando a inficiare sulla concorrenza europea, ma la parte centrale del nostro progetto di parere è quella sul tema degli aiuti di Stato, importantissimo perché negli ultimi anni si è assistito a un rilassamento delle regole sui aiuti di Stato e noi auspichiamo invece una riforma strutturale che vada ad assistere anche gli investimenti strategici in tema di politica industriale. Il pericolo è che gli aiuti di Stato sono stati usati per reagire a delle crisi pandemiche e poi della guerra in Ucraina ma hanno inficiato le politiche di coesione perché gli stati con maggior capacità fiscale hanno potuto assistere le loro imprese nazionali maggiormente, al contrario le imprese che sono state assistite meno avranno un disvantaggio nel mercato europeo. E in ultimo la proposta STEP, facciamo ragionamento sul fatto che non deve dipendere da una riallocazione di fondi già stanziate alla coesione ma da fondi indipendenti e mirati proprio all'industria e all'innovazione. Arriva a Pietrasanta la nuova edizione di Libropolis col titolo Infedele alla Linea che da sette anni si propone come centrale delle intelligenze e dello scontro delle idee. Organizzato da Libropolis APS con il patrocino della regione toscana e del comune di Pietrasanta, Libropolis continua a indicare le coordinate culturali in cui muoversi nel disordinato ordine politico, letterario, sociale ed economico attraverso dibattiti e presentazioni di libri con ospiti ed editori di eccezione. Il festival di editoria e giornalismo si svolgerà nel magnifico complesso di Sant'Agostino fino a domenico 8 ottobre e permetterà al pubblico di conoscere i libri e i loro autori. Sono davvero felice di poter ospitare qui in Consiglio regionale un'iniziativa che abbiamo deciso di sostenere tutti insieme nell'ufficio di Presidenza all'interno di questo percorso che abbiamo voluto dedicare alla valorizzazione della lettura, alla valorizzazione del libro. Investire in cultura, investire in lettura vuol dire investire in libertà. In un tempo complesso come questo abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Mandando un messaggio soprattutto alle generazioni più giovani, leggere fa bene, leggere tanto vuol dire avere posizioni, riuscire ad avere posizioni critiche anche più differenti. Noi abbiamo questo compito come istituzioni, quello di ricostruire una cultura civica, una attenzione all'altro, perché il mondo va visto sempre attraverso lenti differenti e poi ognuno criticamente sceglie qual è la parte giusta della storia da cui stare. Il Consiglio regionale quest'anno contribuirà alla settima edizione di Libropolis con proprio finanziamento. Abbiamo fatto questa scelta perché sicuramente nell'era del digitale, nell'era di internet, è giusto confrontarsi con i nuovi modi di comunicazione, ma noi pensiamo comunque che il fascino del libro, il fascino dell'editore, il fascino di prendere in mano questa cosa di carta e leggerla comunque continui a prevalere e anche se può sembrare una visione romantica debba avere spazio. Ed è giusto che le istituzioni come il Consiglio regionale dedichino una parte delle proprie risorse a questi tipi di festival, a questi tipi di momenti che esaltano e mettono al centro ancora il libro. Pietrasanta, Libropolis, si troveranno lì tantissimi personaggi del mondo della politica, della comunicazione, informazione, tantissimi editori che hanno appunto questo rapporto con il libro come un qualcosa di artigianale, come quell'artigiano che lavora il legno, che lavora il ferro o qualsiasi altro materiale che lo tocca, lo modella con le mani. E lo stesso appunto tra l'editore, specialmente se piccolo. E il libro c'è questo tipo di rapporto che noi abbiamo piacere in qualche modo di poter sostenere. Libropolis è un festival dedicato all'editoria e al giornalismo. Quest'anno è giunto alla settima edizione sul tema Infedeli e la linea che si terrà a Pietrasanta nella splendida cornice del Chiostro di Sant'Agostino dal 6 all'8 di ottobre. Siamo molto soddisfatti per il programma che siamo riusciti a allestire perché vedrà la partecipazione di circa 25 editori che vengono erroneamente definiti piccoli editori perché sono piccoli soltanto per le tirature dei loro libri ma in realtà sono grandi editori per la cura che dedicano al libro che non è più un oggetto soggetto a rapida obsolescenza ma è un bene immateriale che punta a durare al di là delle logiche del mercato editoriale. Siamo molto contenti perché anche quest'anno siamo riusciti a confermare i format che rappresentano un po' la cifra stilistica del festival e quindi avremo due processi. Un processo alla femmina dopo che nel 2022 abbiamo processato il maschio che tra l'altro è uscito miseramente soccombente dal processo. Ci sarà un processo a chat GPT dove un filosofo Paolo Ercolani dell'Università di Urbino intervisterà l'intelligenza artificiale quindi avremo questo confronto tra un filosofo e la macchina. Vi sono poi un format che noi abbiamo ritirato fuori prendendo spunto dalle memorabili serate del Maurizio Costanzo cioè l'uno contro tutti, un evento totalmente disintermediato dove non c'è un moderatore a porre le domande ma il pubblico che intervista direttamente l'ospite. Ci sarà anche quest'anno la seconda edizione del premio che è diretta emanazione di Libropolis quindi è un po' un momento di provocazione rispetto alla diffusione di premi letterari che non ci convincono pienamente. Gli argomenti che affronteremo durante il festival sono tanti si parlerà di politica, si parlerà di politica estera avremo un bellissimo dibattito, noi lo chiamiamo duello tra Marcello Veneziani e Luca Ricolfi su conservatorismo e progressismo che sembra la nuova linea di frattura degli schieramenti politici abbiamo l'intervista chat GPT, abbiamo diversi eventi sulla guerra in Ucraina quindi c'è un programma molto vasto con un certo spazio anche dedicato alla narrativa.